Con il mettersi insieme dei cittadini per svolgere delle attività acquistano così i cittadini con questa attività una piena consapevolezza dei loro diritti e del loro ruolo. E quindi quel che voi fate è non soltanto un modo di attuare la nostra Costituzione ma è un modo di arricchire il tessuto sociale del nostro Paese. E io ve ne ringrazio. Grazie.